buongiorno a tutti ben ritrovati con il nostro laboratorio di craftwork oggi continueremo la seconda parte del progetto profumatori d'ambiente allora ricomincio un po vi spiego un po quello che ci siamo detti l'ultima volta vi dovete procurare una palla di polistirolo un profumatore vuoto o anche pieno piccolino dipende poi anche dalla dimensione della palla di polistirolo una base del bicchiere di car di di plastica a calce da togliere gomma eva o glitterata oppure anche semplice e poi ci serve della colla a caldo allora la prima cosa che noi dobbiamo fare e ritagliare le striscioline di 16 cm x 2 cm di gomma eva così ecco in questo modo devo arrotondare la parte superiore e una volta che creo il 3 ritaglio la parte interna creando tre striscioline devo arrotondare leggermente la parte inferiore creo una treccia dalla parte non glitterata dalla parte di dietro una treccia morbida non troppo stretta e neanche troppo larga così in questo modo al termine della treccia devo incollare ma leggermente mettendo un goccio proprio di co di colla oppure possiamo tranquillamente avvolgere l'estremità così in questo modo e arrotolare la treccia su se stessa in questo modo dopodiché la colla che va a chiudere la rosa così allora io ne ho creati diverse perché voglio realizzare un porta un profumatore d'ambiente dorato allora ho preso la palla di polistirolo il mi la mia bottiglietta piccolina prima di forare il polistirolo mi raccomando prendete comunque la misura ecco così ho creato un altro buchino sotto sempre in corrispondenza prendo il fondo la base del bicchiere di carta no di carta di plastica che lo scusa bicchiere di plastica tolgo la base faccio un cerchietto piccolino per poi creare un piccolo buco ecco così va bene allora momentaneamente tolgo la base e inizio ad incollare le rose le rose di gomma eva allora facciamo insieme in questo modo guardate mi raccomando cercate di capire bene da quale parte dovete attaccare la vostra rosa io per il momento facciamo così poi vado ad incollare con la colla continuo voi vi potete sbizzarrire con i colori che più vi piacciono ecco potete anche alternare i colori prima di continuare guardate che carino prendete la bottiglietta per vedere come va continuiamo continuiamo non non si vedrà nulla così ci sono cercate di non lasciare spazi bianchi eventualmente per il poi possiamo andare a coprirgli con qualcosa guardate guardate continuiamo anche anche fare una rosa più piccola una più grande quindi andiamo un pochino di più la prossima settimana concluderemo il tutto vi farò vedere vi mostrerò anche come possiamo decorare le nostre bacchette che andremo a mettere all'interno del profumo questo questo dobbiamo comunque continuare guardate dobbiamo continuare ad attaccare le rose di gomma la colla deve essere ben calda mi raccomando ok ok allora voi a casa iniziate a creare il vostro profumatore d'ambiente con i colori che che vi piacciono le misure mi raccomando 16 x 2 cm potete farle anche un pochino più corte le strisce in modo che la rosa viene un pochino più piccola in base anche dovete regolare in base alla vostra palla che avete a disposizione la prossima volta continueremo la prossima volta continueremo vi farò vedere una volta che terminerò il giro di rose continuare vi farvi mostrerò come possiamo terminare il lavoretto allora spero che questo progetto vi piaccia a me piace molto e anche perché è utile possiamo metterlo a casa sia nel salone possiamo comunque metterlo nel bagno dove più ci piace anche in cucina e noi ci vediamo venerdì alle 16 e 30 piattaforma g smith stanza centro anziani craft work un bacione a tutti ci vediamo venerdì buona giornata grazie